Il mio spazio è il mio spazio personale. James, gli evoluti hanno alterato le scorte di White Light. Athena dice che usano le strutture della Blackwatch per rilasciarlo. Cosa dovrebbe fare? Non lo sappiamo, ma un container non può incidere su più di 20.000 metri cubi. Quindi se provassimo un rilascio controllato per vedere cosa fa... Athena mi ha fornito la posizione di un carico di White Light già manomesso. Se vuoi attirare l'attenzione di Mercer, ti sarà sicuramente d'aiuto. Ma James, ascoltami. Ho già visto quella luce nei tuoi occhi. Negli occhi di chi sprofonda, di chi si allontana dal mondo. Ti prego. Nonostante questo, cerca di non perderti. So quello che faccio, padre. No, mi hito. Temo proprio di no. Tu? Come cazzo ti chiami? Anderson, eseguiremo un rilascio limitato prima di passare all'intera area. Cominciare subito lo spiegamento. Cosa? Adesso? Dici esso serio? Ma è contrario al protocollo. Io non posso... Caporale, apra le valvole. Sì, signore. Caporale, apra le valvole. Qui si mette male. James, cosa ha fatto? Mi spiace, padre. Non posso parlare. Gliuio! Let's go! Il White Light ha fatto un compromesso. Ha effettato Rapper 5-2-3-4. Ricevuto 3-3. A tutte le unità, priorità 1. Il rilascio del White Light è un controllo. Terreno sicuro tutti i depositi. Passio. Let's go! Non so bene, quello che ho spesso. Diceci cosa fare, Red Crown. Red Crown, qui la situazione è fuori controllo. Attendiamo ordini. Passio. Mantenete la posizione. Squadra Gentec in arrivo. Passo. Passio. Passio. E' Suza. D'accordo, padre. D'accordo, padre. D'accordo, padre. Qualunque cosa sia, è enorme. A cazzo. Pensi se l'agente che avesse rilasciato tutto questo white light, l'intera città brulicherebbe di evoluti. Mercer! Non mi capita spesso di essere così deluso da qualcuno, sergente Heller. Hai rovinato tutti i miei piani. Hai sprecato tutto quel white light. Quello che avevo pianificato per te. Tutto quello che ti ho dato. Non sei neanche in grado di apprezzarlo. Non so di che cazzo stai parlando. Un vero spreco. Addio Heller. Non puoi uccidermi. Non puoi uccidermi, pezzo di merda. Ora, vediamo se questo vale anche per te. Sarebbe stata una morte rapida. Ma ora... Ora ti farò soffrire. E' vissuto il fake. James, che stiavolo sta succedendo là giù? Non è vero, non è vero. Una gamba alla creatura. Porca troia. È di nuovo in piedi. La creatura è viva. Non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero. Un pezzo alla volta. Red Crown, il soggetto sta facendo a pezzi quella cosa. Non dovrebbe mancare molto. Non muore, cazzo. Ma da dove viene quella cosa? Da un girone dell'inferno? È finita. È finita. È a terra. A tutte le truppe, convergete. Ammazziamo quel cosa finché possiamo. Non muore, non muore, non muore. Oh mio Dio. Il soggetto è... Porca troia. Avete visto? L'ha visto qualcun altro, cazzo? Porca puttana. James? James, mi senti? Che succede? È la Blackwatch? No. Gli infetti sono qua fuori. Vada via subito da lì. C'è tempo. Madre di Dio, sa chi diventa un antico! Stanno spottando la porta! Padre, tenga duro! Correggiamo al incontro! Chi voglia la merda? Padre! Padre, mi risponda! Red Crown, Queen Tower 23. Ho appena visto Alex Messer uscire da un'abitazione a sud della zona verde. Merda. È la casa di Padre Guerra. Questa è la casa di Padre Guerra. Padre! Buon la casa di Padre Guerra. Allora? Giuseppe! Maleduzione! Oddio, è morto, vero? Padre Guerra è morto! Che cazzo sei tu? Merda, non ti sento. Ascolta, sono il suo contatto, Athena. Posso aiutarti? Vieni a trovarvi nella zona rossa. Io spero che tu mi senta. Mi chiamo Dana Mercer. Sono la sorella di Alex Mercer. Io ho informazioni su tua figlia. Maya? Devo entrare nella zona rossa. Ma dove devo cercare, Dana? L'esperimenti sono... Che errore, che il nostro corso è un'esercizante. È un'esercizante. Non è vero. Che erano la sua figlia? È un'esercizante. È un'esercizante. È un'esercizante. È un'esercizante. Grazie a tutti.